Cristiano se l'andate non ritorna più, con l'Empoli si perde e non si segna più, da se tu ci penserai, sia Manchester tu segnerai, se la barriera prenderai, com'è difficile vivere, la Juve senza te, ci docca prendere, scavacca i tempi. Mister ci sente? Stavo gatticchiando una canzoncina per far passare la delusione della sconfitta. Sì, sentivamo. Le manca Ronaldo, le mancano, sentivamo. Sì, Ronaldo l'abbiamo già dimenticato. L'ha detto ieri ma non si sembrava proprio. Dobbiamo pensare soltanto a noi e scusate, c'è una chiamata importante da fare. Sì, prego, prego. Chiami pure. Sì, lo sto chiamando. Lo sto chiamando, è importante. Stai a parlare prima di nuovo. Sì, non mi rispondi, vabbè. Doppia chiamata. Pronto, Cristiano! Ti prego, torna, Cristiano. Visto con l'Empoli che ti dà, non l'ha fatto. Cristiano, ti prego, non offendere. Non lo sai un peso per noi, Cristiano, anzi, Cristiano, Cristiano, Cristiano. A peso, a peso, a peso. La decima volta che lo chiamo, Giù. Mister, va. Era il telefono con la mia. No, 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 non l'abbiamo sentito. Stavamo parlando della partita di ieri, stavamo ripetendo su quanto alla fine Cosa? Sì, prego, prego. Un'altra chiamata, ma la cimpatia. Stavolta Agnelli davvero. Cristiano, ti prego, 5 minuti della prossima partita, anche solo 5 minuti. 5 minuti che non fai il collettino come è un uomo. Non può, non può. Ti diamo 5 milioni, 5 milioni. Un milione al minuto, un milione al minuto. Dai, Cristiano, dai. Toscavacca che hai l'attacco, Cristiano, ti rendi conto. Aaaaaah! Che cosa è successo? A peso ancora, a peso ancora. A hardware. Chissà se tu ci pensierai. Va bene mister. Grazie, grazie, grazie. Buonasera. Ciao, ciao. Va bene mister. Gli autogol. Gli autogol. Gli autogol.